Pensa all'ultimo viaggio che hai fatto in auto. Hai notato qualcosa di particolare? I colori degli alberi, per esempio. No? Forse eri troppo occupato a pensare alla tua destinazione. Per una volta prova a goderti il tragitto. Una curva. Il silenzio della vita. Un scorcio inaspettato. Scoprirai che spesso non è importante solo dove vai, ma come ci arrivi. Need for speed, most wanted. Un grande viaggio. Un grande viaggio.